L'ansia può essere definita in vari modi. L'ansia come disturbo che appare o che viene avvertito e denunciato, l'ansia invece in una forma più complessa e meno cosciente come l'epifenomeno di una condizione o come la conseguenza, come l'epifenomeno di un conflitto interiore, ansia come campanello d'allarme. Allora noi potremmo usare la stessa parola per definire un qualche cosa di fisiologico, viene anche chiamato ansia fisiologico, preferisco il concetto di arousal, dal concetto di ansia fisiologica che è l'avvertimento che noi abbiamo quando ci troviamo in una condizione che ciascuno di noi ha, quando si trova in una condizione di pericolo. Ovviamente la sensibilità al pericolo varia sulla base dello stato del momento, faccio un esempio. Se io mi trovo in una foresta di giorno ho un certo grado di attenzione, un certo grado di arousal perché ho la possibilità di controllare l'ambiente con la vista. Se mi trovo nello stesso posto di notte la mia attenzione, il mio udito che tende a prendere un po' a supplire alla mancanza della vista e io sto in uno stato di eccitazione maggiore, in uno stato di arousal maggiore per cui qualsiasi rumore, ho più sensibilità verso i rumori e qualsiasi rumore potrebbe acquisire un significato negativo, che ne so, per esempio si sta avvicinando un lupo o un animale comunque pericoloso. Ansia è preferibile considerarla come la manifestazione principale del disturbo psichico, là dove intendiamo che il disturbo psichico è una qualsiasi forma di patologia che non consente all'individuo di avere una relazione significativa e conveniente con la situazione ambientale in cui si trova. In questo senso l'ansia ha caratteristiche patologiche, anche se non mi trovo in una situazione di pericolo, io avverto i sintomi che avrei se mi trovassi in una situazione di pericolo. Il grande studio dell'ansia, anche in questo caso qui, deriva dalla psicanalisi perché la psicanalisi ha spiegato tutta una serie di manifestazioni di sintomi intese là come formazione reattiva, quindi come disturbo manifestazione di ansia, come manifestazione diretta anche se non immediatamente comprensibile e della condizione conflittuale di quell'individuo fra le sue pulsioni, il suo mondo etico, fra la forza della sua personalità, del suo io e i compiti che si attendono per lui, che lui possa portare avanti, che lui possa svolgere. In questo senso l'ansia è un segno, ma è anche un segnale e ovviamente dà luogo, forse ovviamente no, ma conseguentemente dà luogo a delle costruzioni simboliche che sarebbero poi i sintomi della neprosi attuale. quando la neprosi comincia a dare luogo a una sindrome riconoscibile, definibile e che passa attraverso diversi individui seppure con esperienze vitali diverse. Grazie a tutti!